Una lotta ancora tutta da decidere. La corsa salvezza è ancora in bilico per diverse squadre. Abbiamo tre partite da onorare, dice Baroni, che non si arrende nonostante la matematica retrocessione in cadetteria. La lotta per evitare la B è sempre viva e più che mai incerta, con l'Empoli di Andrea Zoli, che dopo il successo contro la Fiorentina dovrà ripetersi anche contro la Samp per sperare in un clamoroso finale di stagione. Agli azzurri però non basterà soltanto vincere, bisognerà infatti che l'Udinese freni la sua corsa e i bianconeri domenica saranno di scena proprio allo stirpe e vincendo potrebbero ipotecare la salvezza. I friulani sono reduci dal pareggio casalingo contro l'Inter, ma nelle ultime tre trasferte contro Roma, Lazio e Atalanta non hanno trovato la via della rete. Guai quindi a sottovalutare l'impegno. Quanto alle probabili formazioni, per il Leone ci sarà da sostituire lo squalificato Sportiello. Tra i pali tornerà dunque Francesco Bardi. Probabile difesa 3 con Ariaudo, Goldaniga e Brighenti. In mezzo al campo vanno valutate le condizioni di Cipsa, ma il suo impiego dal primo minuto rimane in forte dubbio. In avanti Pinamonti è in ballottaggio con Ciofani per affiancare Ciano.